Serie A, ecco, Daniele Rugani e Gabbiedini sono i primi due casi che ci sono in Serie A e vanno in quarantena dunque tutta la Juve, tutta la Sampdoria e anche tutta l'Inter perché aveva appena giocato con la Juve e tutta la Sverona perché aveva appena giocato con la Sampdoria quindi il caso in Italia è davvero grave, siamo più di 12.000 casi, meno i morti e i guariti siamo 10.100 e passa dunque le partite di Serie A di Europa League e Champions League, ora quindi anche le Coppe UEFA per gli italiani non si disputeranno e addirittura la UEFA sta cercando di sospendere tutto quanto per sconfiggere questo coronavirus mi raccomando, ascoltate le regole della Repubblica